Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Malore durante una cerimonia. Deceduto il sindaco di Soragna Matteo Concari. Matteo Concari, 45 anni, imprenditore ed ex assessore, è stato eletto nel settembre 2020, succedendo a Salvatore Iaconi Farina. Il primo cittadino, domenica mattina, stava partecipando ad una cerimonia a salso maggiore, davanti alle terme. All'improvviso è stato colpito da un malore. I sanitari sono intervenuti immediatamente e hanno cercato di rianimarlo, praticando un massaggio cardiocircolatorio. Sul posto, oltre all'ambulanza e l'automedica, anche i carabinieri di salso maggiore. I tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.